Negli episodi precedenti Benvenuti nella Tana del Panda Perché da Cape Caserta abbiamo l'astronauta Vincenzo Buonasera a tutti Io non vengo dalla NASA ma vengo dal naso Vedete? Ecco il naso È un moccolo In ufficina con Gesù Grino Gesù Gesù Ma Gesù in questo momento è andato via Ho fatto, ce l'abbiamo fatta Attenzione a Riccardo Bella perché è il nostro amministratore Della chat Furiosa Questa sera parleremo di Prima cosa che io vorrei chiedere a voi Ci sono problemi Abbiamo dei problemi Non solo io personalmente Ma abbiamo dei problemi No, mi è arrivata la notifica che sta partendo la live Il discorso di questa sera è Come ascoltate voi La musica Sinceramente non lo so Ma è così Ho fatto la mia prima stagione nei bagni Vediamo Mulino bianco Buona Ok Ragazzi L'ultima parte di questa Cosa ha fatto? Cos'era? Era quello che facevi tu Allora Per un problema tecnico Vincenzo ci ha dovuto lasciare un attimo Così Hai lasciato fuori Vincenzo No, 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 no Un altro problema tecnico O È andato via anche Gino Per un attimo Quindi O Per un altro problema tecnico Mi sembra di aver capito che sono rimasto da solo per un attimo Così posso finalmente dire E non posso mandare via la regia Non posso mandare via la regia che mi remaccone Vorresti saper suonare alla perfezione Tolto I limoni Signore Vorresti suonare i limoni? Vai Marco Benissimo È stato un piacere Claudio È stato meraviglioso Un intervento Ciao Claudio È stato un intervento importantissimo Il suo apporto Ha detto poco Ma l'ha detto benissimo Dirige l'orchestra Il maestro Peppe Vessicchio Questa è la frase che visi poco prima che lui entrasse nella mia trasmissione Sta facendo Sta parlando con il suo vivo Sto di legge Vincenzo Sta parlando con l'altissimo Sta avendo dei collegamenti con le entità Chiamate Luigi Ecco qua Bene 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 Sempre meglio Ok Sempre meglio Puoi ripetere la domanda che mi sono distratto E su questa notizia fondamentale direi che possiamo chiudere la serata Esatto Esatto Grazie a tutti Grazie a tutti